Telefoni appoggiati sulla scrivania, sedie vuote, quattro operatori del centralino del polo ospedaliero di Pescara che attendono in piedi fuori dalla stanza di loro competenza. Un caso che trova le sue radici nell'arrivo di una collega non vedente accompagnata al lavoro dal suo cane guida Mindy, una femmina di Labrador che dal primo settembre veglia fedelmente la sua padrona nel corso delle ore di lavoro. I problemi si erano avvertiti già il secondo giorno, il 2 settembre, quando i quattro colleghi avevano fatto presente alla direzione il disagio vissuto nel condividere la stanza con un cane di grossa taglia. Nel comunicato prodotto dalla Will si legge di un malore causato dal cattivo odore del cane che avrebbe procurato la necessità dell'intervento del 118 per una reazione vasovagale. Secondo la Will il rischio sarebbe la salute di ogni lavoratore per il rischio igienico. Qualcuno lamenta anche paura dovuta alla grossa taglia del cane. La Will chiede provvedimenti immediati tra i quali la disposizione di tenere Mindy legata lungo il corridoio al di fuori della sala centralino per tutta la durata del turno di lavoro. Intanto Silvia, questo è il nome della centralinista non vedente, questa mattina si è trovata sola a gestire il traffico di chiamate in entrata con molte difficoltà. E questo è il suo racconto. Il problema è che all'inizio il mio dirigente mi aveva chiesto esplicitamente, ovviamente verbalmente, diciamo di non creargli problemi. Queste sono state le sue parole. Perché la situazione qui dentro era che non volevano il cane, perché insomma per tanti motivi, e quindi mi hanno detto cerca di non crearmi problemi. Entrambe le parti in causa si sono rivolte al manager dell'asla di Pescara, chiedendo di ottenere una soluzione che rispetti le esigenze di ognuno e soprattutto che garantisca il funzionamento di un servizio pubblico che oggi ha visto rimanere vuote quattro postazioni su cinque. Sinceramente sono rimasta da sola. Ho avuto un po' di difficoltà, perché praticamente io non ho neanche la postazione adeguata. Infatti lei non vede un computer, no? No. Ok, perfetto. Quindi in ospedale ci sono reperibilità, cellulari di medici che i reparti mi chiedono, e io quindi sono stata costretta a chiamare il direttore sanitario e dirgli che ho questa situazione, quindi eventualmente mi avevano chiesto dei cellulari, dei reperibili che io non potevo cercare. E poi il direttore sanitario gentilmente mi ha risolto il problema momentaneamente e niente, questa è la situazione.